Grazie Presidente, dunque io ho ascoltato ovviamente con molta attenzione tutte le analisi che sono state fatte, ho letto anche ovviamente il documento, faccio i complimenti per un documento molto veramente preciso, puntuale su tantissimi aspetti. Devo dire che, permettetemi di dire a nome della maggioranza, di esprimere un minimo di soddisfazione rispetto a quel risultato per cui dopo ben sei anni, per la prima volta dal 2014, il giudizio medio dei cittadini ritorna a essere la sufficienza. Questo è un dato sicuramente importante, ovviamente che nella sua complessità, nell'analisi generale ci sono vari aspetti che devono essere valutati nel dettaglio come rifiuti, dove c'è ancora un'insufficienza, ma comunque con un trend in risalita rispetto al 2019. Così anche come con i trasporti, sui quali mi permetto di poter dire, che rilevo con soddisfazione, che quest'anno ci sono dei milioni di chilometri, 3 milioni di chilometri effettuati in più, è ovvio che sono pochi rispetto a quello che effettivamente avremmo dovuto fare, ma c'è un ma, ovviamente è bene ricordarlo ogni volta, la situazione che abbiamo trovato con Atac, che ci ha portato a portare i libri in tribunale con il concordato preventivo in continuità, ha fatto sì che poi oggettivamente ci sia stato un blocco nel corso di questi anni, tanto che fino a gennaio 2019, quando il tribunale poi ha dato il via libera al concordato in continuità con l'approvazione da parte dei creditori, del piano di rilancio dell'azienda e anche il tribunale ha dato il via libera a questo piano, solo allora, agli inizi del 2019 è stato possibile acquistare i nuovi, attivare la procedura di acquisto dei nuovi autobus che sono arrivati a fine 2019 a novembre e poi sappiamo tutti quanti che a marzo 2020 è purtroppo iniziata la pandemia con il blocco, per cui diciamo una cosa, mi sentite bene? Si, mi sentite? Non si sente, non si dite, prego. Scusa, per cui questo è un anno un po' particolare per tutto quello che è accaduto, però c'è un trend in risalita con tanti aspetti da dover migliorare, dovremmo fare anche delle analisi un po' dettagliate per quanto riguarda i rifiuti, c'è da fare molto poi, non sto dicendo che sia tutto bene perché semplicemente abbiamo raggiunto la sufficienza, assolutamente no, rilevo con favore che Roma è risultata la prima per la digitalizzazione, non la do per scontata come l'hanno data altri, vuol dire che c'è stato un impegno dell'amministrazione per raggiungere questo risultato, come rilevo con soddisfazione che il bilancio arboreo per fortuna è iniziato a ricrescere, vuol dire che si fanno piantumazioni e mi auguro che i prossimi anni se ne faranno sempre di più perché è un aspetto importantissimo anche da un punto di vista climatico. Ecco, chiudo il mio intervento semplicemente dicendo una cosa perché in un punto non ho capito bene, forse potrei anche aver capito male, ma faccio questa citazione, è stato detto che per quanto riguarda il bioparco è necessario poter dare un contributo straordinario. Ebbene, nella variazione di bilancio che abbiamo approvato il 30 di novembre abbiamo approvato un contributo straordinario al bioparco di 2 milioni e 6 proprio al recupero delle mancate bigliettazioni, è stata una cosa nella quale abbiamo dibattuto molto anche in aula, c'è stato un grandissimo impegno di questa amministrazione per risolvere questo problema, perché oggettivamente la chiusura del bioparco fa andare avanti comunque i costi, ma non fa arrivare le entrate della bigliettazione, per cui anche lì siamo intervenuti. Io veramente ringrazio l'agenzia per lo straordinario lavoro che è stato fatto, apprezzo anch'io il fatto che sia stata fatta l'analisi in aula, perché credo che proprio sia giusto continuare su questa strada e le rilascio la parola. Grazie, grazie Presidente.